Altri fondi dal Masterplan al Bruzzo per 19 centri della nostra regione per il recupero storico e artistico di alcuni importanti paesi dell'Abruzzo Mazzocca. I temi dei borghi dell'Abruzzo interno è stato sempre un tema all'attenzione soprattutto di quelle realtà amministrative locali che da sempre hanno cercato di promuovere il proprio territorio anche in mancanza di un quadro chiaro e definito. Oggi abbiamo da due giorni il nuovo piano di sviluppo turistico e soprattutto con il Masterplan abbiamo anticipato i tempi finanziando 30 interventi sui borghi interni. I primi 11 le convenzioni furono sottoscritte all'inizio di aprile scorso, oggi ulteriori 19 che tendono a valorizzare quelle peculiarità storico-culturali e anche identitari che molti dei nostri borghi riescono ad esprimere cercando di metterle in rete e quindi metterle in un discorso di promozione turistica del proprio territorio anche con finalità diverse. Per esempio penso alla promozione culturale, alcuni con le situazioni che oggi le abbiamo viste. Sono interventi puntuali di 140 mila Euro ciascuno, quindi sviluppano complessivamente un monte di interventi che supera i 4 milioni complessivamente di Euro. È una cosa che si poteva fare da tempo, personalmente anche come esperienza pregressa è una cosa che chiedevamo da tempo. Lo si è fatto, l'abbiamo fatto noi perché ritenevamo insieme ai sindaci e amministratori locali che il Presidente Alfonso ha avuto modo di contattare ormai a due anni concertando con loro il tipo di attività e di interventi che da mettere in campo, dando così un nostro contributo a questo tema del sistema dei borghi che per l'Abruzzo può essere uno dei tanti volani di ripresa dell'offerta turistica.